Amici cari amiche, eccoci qui, ci troviamo presso il Chesas, ristorante che trovate in una zona meravigliosa, ci troviamo infatti a Catanzanolino, proprio nella zona del porto, dove potrete degustare dei fantastici piatti, sia a pranzo che a cena, dove tutto è rigorosamente pescato sul momento, in più potrete anche godervi dei fantastici aperitivi, dove anche in quel caso tutto ciò che potrete degustare sarà rigorosamente fatto al momento. Quindi tutto bello caldo, tranquillo, degustoso, per poi ovviamente spostarci anche nella zona esterna, dove potrete godervi direttamente questa panoramica straordinaria, infatti guardate, non è un quadro, siamo sempre qui presso il ristorante Chesas, dove potrete svolgere la vostra giornata già dal mattino, pomeriggio con gli aperitivi, pranzo e cena con cibi e tutto rigorosamente pescato sul momento, e poi potrete continuare anche post-serale per godervi un ambiente di totale relax. Noi vi salutiamo e vi aspettiamo sempre qui al Chesas. Ciao!